20 anni fa la strage di Nassiria, l'attacco alla base ai militari italiani in Iraq che fece, lo ricordiamo, 19 morti. Ieri le celebrazioni civili e religiose e militari ovviamente in tutta la regione Calabria e noi siamo partiti proprio dalla manifestazione di Locri in una piazza intitolata alla città medio orientale. È un momento emozionante, la città di Locri rende onore ai caduti di Nassiria come rende onore a tutti i caduti delle missioni internazionali di pace. E lo fa con profondo senso dello Stato perché è giusto ricordare chi ha perso il bene prezioso della vita per garantire i principi di libertà e di democrazia. Quindi ricordiamo questi 19 italiani uccisi in quel maledetto 12 novembre 2003 e vogliamo che oggi sia un momento non soltanto di ricordo e di preghiera ma anche di confronto e di riflessione affinché ognuno di noi nel nostro piccolo possa compiere delle piccole azioni che ci possono portare ad avere un mondo più pacifico. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella parrocchia di Sienbiaggio, a seguire proprio in piazza dedicata ai caduti di Nassiria la commemorazione con il cerimoniale e l'esibizione della banda della città metropolitana di Reggio Calabria a cui tutta la comunità lo crese e non solo ha partecipato proprio per rendere omaggio ai caduti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.